E' stata un'ottava edizione ricca di sorprese ed emozioni il trofeo Baia di Sapri, la competizione di pesca sportiva organizzata dall'Associazione Embattiti di Pesca che ha animato la città della Spigolatrice nell'ultima domenica di maggio. A trionfare nella gara mattutina della tecnica canna da riva bolognese disputata nel sottoflutto del porto saprese, Antonio Chirico da Capri con 1700 grammi di pescato e la preda più grande, un sarago di 650 grammi. Nel pomeriggio invece spazio alla gara di surfcasting sulla spiaggia del Lungomare Italia dove il primo posto è andato a Giuseppe Barberio dell'ASD Mareggiata Salerno che ha totalizzato 3500 punti con la preda più grande, vale a dire un'orata di 37 centimetri catturata da Claudio Scinardi. Non è passata inosservata agli appassionati di pesca sportiva la presenza di due testimoni al d'eccezione, Saverio Rosa, campione del mondo di pesca danatante, e Cinzia Lubrano, fresca di un oro a squadre e di un bronzo mondiale individuale alla rassegna iridata di Amamette in Tunisia. Emozionante il momento della benedizione impartita dal parroco della chiesa dell'Immacolata di Sapri, Don Raffaele Brusco, e della deposizione di una corona d'alloro a largo della Baia. Al suono delle paranze, la cerimonia a cui hanno preso parte il primo cittadino Antonio Gentile, la capitaneria di Porto, i carabinieri della stazione di Sapri, il comandante della polizia municipale Antonio Abadessa, è stata dedicata alla memoria delle genti di mare.